Variante inglese, è necessario essere doppiamente attenti, è l'opinione della dottoressa Gloria Taliani, cattedratica della Sapienza e direttore di malattie infettive dell'Umberto I di Roma, in servizio al Moscati di Avellino, su incarico della Protezione Civile Nazionale. Il virus muta per interagire meglio con l'ospite. Bisogna stare attenti, doppiamente attenti perché i meccanismi di controllo epidemiologico che noi abbiamo dell'infezione sono meccanismi basati soprattutto sul distanziamento, sull'uso delle mascherine, sul lavaggio attento delle mani, quindi sono misure di comportamento. Oggi ancora l'impatto che la vaccinazione avrà in futuro non è attivo, non è presente, quindi la vaccinazione ha un effetto protettivo marginale e quindi bisogna rafforzare necessariamente l'attenzione. I consigli ai cittadini per fare fronte a questa situazione? Di non abbassare la guardia, di non pensare mai che il pericolo non ci riguarda. Il pericolo riguarda tutti, è sempre tra di noi e bisogna ricordare che il virus non va in giro da solo, va in giro attraverso l'ospite, quindi attraverso le persone. L'unico modo che abbiamo realmente di proteggerci è difenderci da possibili contagi e quindi mantenere tutte le misure che ci sono state ripetute milioni di volte, ma che vale la pena di ripetere un'altra volta ancora. Lavarsi le mani, mantenere la distanza, utilizzare le mascherine in maniera corretta e assidua.